Si attende che arrivi presso in Italia Bruno Umberto Damiani, l'uomo chiave in grado, secondo gli inquirenti, di squarciare il velo sull'omicidio dell'ex sindaco di Pollica, Angelo Vassallo. Non appena rientrerà da Bogotà, dove è stato arrestato grazie alla collaborazione tra i Carabinieri del Rosso e le forze di polizia colombiane, verrà sottoposto ad un lungo interrogatorio. Da chiedere infatti ciò che è emerso dalle dichiarazioni di un pentito di pastena a Salerno, rese note nel 2012 dallo stesso procuratore Franco Roberti. Secondo tali affermazioni Damiani faceva da tramite tra una coppia di albergatori di Acciaroli e due pregiudicati del napoletano di Secondigliano. Il giorno prima dell'assassinio di Vassallo, il 4 settembre, Damiani sarebbe stato a Napoli con gli albergatori ad incontrare gli spacciatori. Incontri ripetutisi fino alla partenza di Damiani per il Brasile il 7 settembre e avvenuti anche a Salerno e nel Cilento. Il 5 settembre, a distanza di poche ore dall'omicidio, Damiani sarebbe stato visto al porto di Acciaroli con i due napoletani mentre parlava con l'albergatore. Il pentito arriva anche a dire che la mano che ha teso l'agguato al sindaco pescatore è proprio quella di Damiani, notizia fatta trapelare da uno stesso familiare del brasiliano che si sarebbe vantato della cosa. A spingerlo all'azione criminale nei confronti di Vassallo, la rabbia per l'intromissione dell'ex primo cittadino nel business della droga nel Cilento e quel diretto alterco avuto davanti a un locale pubblico di Acciaroli in cui il sindaco pescatore gli aveva fatto capire che se ne doveva andare dalla sua cittadina. Sono tutti elementi questi che ora vanno verificati, per questo le risposte di Damiani potranno essere centrali. Lui è a conoscenza di quanto stava accadendo nel Cilento, di come si stava affermando il mercato della droga e potrebbe anche fare luce sull'assassinio qualora non fosse proprio lui. Per questo le risposte di Damiani potranno essere centrali. Lui è a conoscenza di quanto stava accadendo nel Cilento, di come si stava affermando il mercato della droga e potrebbe dunque anche fare luce sull'assassinio. Il suo legale, l'avvocato Michele Sarno, fa sapere che Damiani chiarirà tutto ed è questa la speranza a cui si aggrappa la famiglia di Vassallo e l'intero Cilento, che comunque si è andata e venuto fuori come terra di conquista, golosa fetta da accaparrarsi nelle azioni strategiche dei gruppi criminali campani.